Il momento di affrontare il giudice, prego, parto io? Sì, prego, un disastro, un po' esagerato, un filo esagerato, scusate, non so che esibizione l'abbiate visto voi, ma qui non c'era complicità, non c'era emozione, non c'era entusiasmo e soprattutto non c'era la luce. Intanto non cambia la mia idea, perché il mio risultato, la mia risposta è no. Fra un attimo arriva la moviola, intanto faccia di Cesari sull'arbitraggio di Cassai un disastro.